Ciao ragazzi, come state? Spero bene, io sono Mario, il coach. E se ti dicessi che oggi nell'allenamento ho inserito corsa e glutei, tu cosa faresti? Scommetto che ti precipiteresti in palestra. Cavolo, che parola difficile. Vabbè, a parte tutto, io oggi ho creato un allenamento di fine anno abbastanza impegnativo e anche qui tante calorie da bruciare. Il coach si è messo alla lavagna oggi, quindi occhi e movimenti. Partiamo sempre dal riscaldamento, mi raccomando. Esegui bene i movimenti e ci vediamo alla forza. Ciao! Ed eccoci qui alla forza ragazzi, spero ti sei riscaldato bene. Oggi nella forza ho inserito il power clean. Attenzione, queste sono tecniche con il bilanciere, tecniche di sollevamento olimpioniche. Quindi non facilissime, ma non impossibili. Ci vuole molto tempo, molta tecnica e molta pazienza. Prova a dare un'occhiata a questo movimento che io umilmente proverò ad eseguire. Magari qualche campione in ascolto prima o poi interverrà su questi video e ci dirà come poter migliorare ancora di più. Tu dagli un'occhiata. Preparati bene perché ci vediamo al workout. Occhio! Ciao! E questo invece è il workout finale ragazzi. Spero che hai fatto una buona forza. Attenzione perché nel workout ho inserito ben sei giri four time. Gli esercizi sono sempre una stazione da ripetere. Prima tre giri, poi due giri e poi un giro. C'è il Roman Deadlift. Quindi attenzione a questo movimento non semplicissimo. Fammi qualche domanda perché sono sicuro che ce l'hai. E poi tanta corsa. Dai un'occhiata ai movimenti. Tu mi raccomando iscriviti al canale. Sto scherzando se ti va. Ma al massimo lascia un mi piace. E noi ci vediamo alla prossima. Allenati bene. Ciao! 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 Ciao!